Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di Wake Up Call. Wake Up Call è un termine che in inglese vuol dire campanello d'allarme e viene associato appunto alla presenza di un problema che deve essere risolto o che comunque richiede attenzione. Mi piace molto questo termine perché nell'ambito dell'ospitalità accadeva un tempo, ma forse accade tuttora, che negli hotel si può chiedere al personale di essere svegliati la mattina con una chiamata al telefono della stanza che viene proprio definita la Wake Up Call. Quindi questo termine ha un doppio significato, sia quello relativo al mondo dell'ospitalità in cui si viene svegliati con la chiamata al telefono, sia il campanello d'allarme che si può verificare in alcune situazioni e che ci porta a darci una svegliata. Eh sì, perché è un modo di dire, proprio viene eredita dal mondo dell'hospitality e noi oggi ovviamente lo contestualizziamo nell'ambito dell'imprenditoria alberghiera, no? Quindi io sono un imprenditore alberghiero, ricevo una Wake Up Call, quindi la ricevo io e non la do più ai miei ospiti che soggiorano. Quindi che cosa significa? Quando riceviamo queste Wake Up Call? Ci fai qualche esempio, Edoardo? Sì, allora, sono delle vere e proprie svegliate, quindi nell'ambito dell'ospitalità, per esempio, possono avvenire nel caso di un calo delle prenotazioni, quindi questo può essere un primo esempio, o della perdita di clienti a favore di una struttura concorrente, oppure da alcuni feedback particolarmente forti nell'ambito delle recensioni. Quindi queste sono delle Wake Up Call, delle svegliate, che devono farci un po' trattonare. trattestare. Esatto. Ma vedi, il concetto secondo me è interessante perché quello che succede è che si lavora in un contesto di comfort, no? Noi parliamo spesso di comfort zone e quindi tu sei lì nel tuo habitat naturale, sei tranquillo, entri nella tua routine e tutti i giorni fai le stesse cose. Sì. E non ti accorgi di come il mondo intorno a te stia cambiando, come il mondo stia evolvendo. Ma non lo fai per cattiveria, lo fai perché entri appunto in routine. A un certo punto però succede qualcosa che cambia lo status quo. Sì. E quindi questo scossone, appunto, è la Wake Up Call in cui ti fa un attimino svegliare da questo torpore e dire abbiamo un problema, le prenotazioni stanno calando, devo capire perché. Oppure abbiamo un problema, il personale sta partendo, non rimane, non riesco a tenere le persone per più di otto giorni a lavorare qui in alberco, più di otto mesi o quello che è. E quindi abbiamo un vero e proprio problema. Quindi la sveglia è in qualche modo, questo termine ovviamente inglese che noi oggi in qualche modo parafrasiamo, è appunto uno scossone. Allora la domanda che però mi pongo è abbiamo capito come funziona? Quindi concettualmente a tutti noi è capitato, a me diverse volte nell'ambito lavorativo di aver ricevuto delle Wake Up Call, no? Mi sono reso conto che qualcosa è cambiato rispetto a come era prima e quindi ho dovuto far fronte al cambiamento appunto rimboccandomi le maniche insieme a voi, insieme ai colleghi del team. Quindi come facciamo però? Esiste un modo per anticipare queste Wake Up Call e quindi in qualche modo svegliarci prima della sveglia? Allora, così su due piedi direi che è molto importante coinvolgere i nostri collaboratori, quindi se sono un albergatore è importante che i dipendenti, le persone che comunque lavorino con me, mi diano dei feedback in maniera naturale perché quelli possono essere un ottimo anticipo di una Wake Up Call. Quindi questi suggerimenti, questi spilli che mi pungono possono essere già dei buoni indicatori, Marco. Altrimenti un uomo solo al comando poi magari si sveglia quando è troppo tardi. Quindi innanzitutto quello che dici è ascoltare i feedback che provengono dall'esterno perché a volte noi la sveglia la possiamo anche ignorare e quello è l'errore più grave che uno può fare. Quello è l'effetto struzzo. Ah, testa sotto la sabbia. Esatto, testa sotto la sabbia, non è così, è il mio cliente che si sbaglia, non è vero che la nostra colazione fa schifo, non è vero che la nostra accoglienza non è buona, sta sbagliando il cliente. No, non lo voglio sentire. E quindi vado avanti per la mia. Esatto. Quindi da una parte abbiamo diverse casistiche, no? Allora, da una parte possiamo anticipare la sveglia e quindi rimanere svegli sul mercato e capire un po' quello che succede e misurare mano a mano, evitando di addormentarci e rimanere nel nostro torpore quotidiano. E quindi lì è più difficile perché su base settimanale, mensile o quando è, devi non antimino fare un'analisi di coscienza, ma certe cose potresti non vederle. Come dici giustamente tu, devo fare ricorso ai miei collaboratori, alla mia squadra, capire insieme a loro se c'è qualcosa che non va e quindi cercare di nuovo di anticipare questa wake up call. Esatto. Nel caso in cui questo giocare d'anticipo non abbia funzionato, o quantomeno non ci sia riuscito perché non ci può riuscire sempre, a un certo punto ti arriva questa sveglia. A quel punto hai due opzioni. O prendi subito le redini della situazione e cerchi di trovare una soluzione al problema che si pone, o quantomeno ad agire, oppure puoi premere il pulsante ricordamelo tra dieci minuti, la sveglia del mattino e dici ricordamelo dopo. E la seconda soluzione è sicuramente più pericolosa. Allora, è una procrastinazione, è l'arte del rimando, come piace chiamarla a me. Quindi rimando, rimando, sì la rimando, ma poi sta finendo la settimana, vado alla settimana dopo, inizia la stagione, è iniziata la stagione e adesso non posso metterci le mani, lo farò terminata la stagione. E la procrastinazione è quanto di più pericoloso per un'industria perché ci riporta anche a quel detto meravigliosamente odioso che abbiamo sempre fatto così, l'ho fatto sempre così, non voglio uscire dalla mia zona di comfort perché ho paura di andare ad esplorare qualcosa di nuovo. Quindi è interessante perché poi tutti questi concetti, la wake up call, la zona, la comfort, sono tutte collegate tra loro. Eh sì, in pratica fanno capo un po' allo stesso problema, quello del non voler cambiare in un contesto che cambia. Quindi oggi l'argomento era più semplice del solito, però secondo me è importante, infatti quando l'hai proposto Edoardo ero contento di parlarne, proprio perché ricalca la necessità di rimanere svegli, la necessità di rimanere al passo con un mercato. Noi parliamo di ospitalità 4.0 che è una ospitalità che evolve, un mercato che evolve sempre più velocemente e quindi noi dobbiamo in qualche modo capire come evolve e come si fa. Si fa ascoltando questo podcast, si fa studiando, si fa ascoltando i collaboratori e così via. Noi ce la mettiamo tutto ovviamente come imprenditori alberghieri o operatori del settore del turismo per cercare di capire come le cose stanno cambiando. Talvolta delle cose necessariamente ci sfuggono, altre cose non le possiamo risolvere subito e quindi dobbiamo premere snooze sulla nostra sveglia e quindi chiedere, ma non per procrastinare, ma bensì per dire non posso agire oggi perché non ho, ma non per scuse, ma proprio perché oggettivamente non riesco, lo risolverò più avanti. Quindi mi rendo conto che non è sempre facile trovare la giusta, diciamo, il modo di agire giusto, però ci dobbiamo provare e quindi rimaniamo consapevoli di queste wake up call, stiamo allerta, stiamo vigili perché ahimè o per fortuna il business è sempre più complesso. Assolutamente, ciao a tutti e buon lavoro. Buon lavoro, state svegli.